La fuoriuscita di fumo dalla cabina ha costretto un Airbus 320 della EasyJet, proveniente dalla Grecia, diretto a Londra, con 178 passeggeri a bordo a compiere un atterraggio d'emergenza presso l'aeroporto di Brindisi. L'aeromobile è atterrato ieri poco dopo mezzogiorno. Ad attenderlo sulla pista c'erano i vigili del fuoco del distaccamento aeroportuale, pronti a intervenire in caso di necessità. Fortunatamente passeggeri e membri dell'equipaggio hanno lasciato l'aereo sani e salvi. Una volta a terra sono stati indirizzati verso una delle aree parcheggio dell'aerostazione. Di certo a bordo del velivolo si sono vissuti momenti di grande concitazione, se si tiene conto anche dell'ingente quantitativo di carburante, circa 8.000 libre, che si trovava nei serbatoi. Una situazione analoga si era verificata anche lo scorso 10 aprile, quando un aereo dalla compagnia britannica Low Cost, Monarch & Rines, partito da Birmingham in Inghilterra e diretto al Cairo in Egitto, fu costretto ad uno scalo di emergenza a Brindisi a causa di un guasto al pannello di controllo con fuoriuscita di fumo. Anche in quel caso non si registrarono feriti. Una volta saliti a bordo, i vigili del fuoco hanno riscontrato sull'aeromobile dell'Easyjet che non c'è stata alcuna fuoriuscita di fumo. Ad allarmare l'equipaggio era stato un odore acre proveniente dalla cabina.